Buonasera, questa sera si parte con Renzi e 5 Stelle, ancora Renzi nel dialogo con gli elettori via Twitter risponde che la legge elettorale si fa con chi ci sta in Parlamento, quindi senza lo steccato della maggioranza di governo. Interlocutori quindi sono anche Forza Italia e il Movimento 5 Stelle, gli altri interessati eventualmente a una riedizione ad esempio del cosiddetto Mattarellum, del maggioritario con i collegi e eventualmente anche un doppio turno. Ma la legge elettorale va fatta entro gennaio, freddezza, molta freddezza a 5 Stelle che oggi ha il suo secondo Restitution Day, i soldi messi da parte, non utilizzati, di diarie, spese, stipendi parlamentari con una protesta come vedremo perché vogliono che vengano utilizzati per il fondo per le piccole e medie aziende. Ma poi c'è il caso napolitano, il capo dello Stato ha parlato ancora oggi ma ha sostanzialmente tenuto il punto sulle cose già dette ieri, bisogna fare le riforme, non bisogna fare le elezioni anticipate, l'Europa ci guarda e io non sono qui a vita e ha fatto capire sia ieri sia oggi il capo dello Stato che è pronto a dimettersi. Ma il caso napolitano allora è giusto così, fa bene così oppure no? Sentiremo due pareri opposti. Poi è la vigilia della manifestazione romana del movimento del 9 dicembre, insomma i forconi, quella parte del movimento che ha deciso appunto il raduno di domani in piazza del popolo, tensione, distinguo, prese di distanze ma anche comprensione, ad esempio quella che fa notizia ovviamente del leader degli industriali squinti. Poi il caso Gasparri, un'inchiesta della magistratura di Roma, un'ipotesi di reato per il fatto che Gasparri prelevò a quanto pare dei soldi dalle casse del gruppo parlamentare del PDL di cui era capogruppo per una polizza sulla vita. Una situazione poi sanata ma nel frattempo evidentemente la magistratura ha voluto vederci chiaro. E poi c'è un altro caso che invece è sicuramente scandaloso, quello di Lampedusa. Le immagini che riprendono una vera e propria disinfestazione agli immigrati nudi nei rigori dell'inverno. La protesta è generalizzata e l'indignazione pure, ma qualcuno sarà pur stato. E poi c'è il decreto sulle carceri varato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Si tratta a quanto pare di, giura il governo, di una serie di misure che non avranno impatto sulla percezione di insicurezza sociale dei cittadini. C'è anche da parlare delle scommesse nel calcio, nomi altisonanti che protestano la loro innocenza come quello di Rino Gattuso. Ma ci vediamo tra 30 secondi per i titoli. Renzi tira dritto sulle riforme, le faremo con chi ci sta, dice, sulla legge elettorale coinvolgeremo quante più forze politiche possibili. Il punto è la volontà politica, fissa gennaio come termine ultimo. Torna a sfidare il grillo sui rimborsi. I grillini oggi sono all'attacco anche loro davanti al Ministero dell'Economia per il secondo Restitution Day. Napolitano insiste, le istituzioni hanno il dovere di garantire stabilità e governabilità e pur non evocando come ieri le sue possibili dimissioni, ricorda le forze politiche di non essere stato lui a volere un secondo mandato. A Forza Italia aumenta il numero degli attacchi, ha esondato. Ma fa bene o no il capo dello Stato ad avere questo ruolo interventista? I pareri di Secchi e Travaglio. Restano divisi i forconi sulla manifestazione di domani a Roma. In piazza l'ala più intransigente che promette di portare nella capitale decine di migliaia di persone da tutta Italia. C'è il timore di una giornata altissimo rischio per la sicurezza. Il presidente di Confindustria Squinzi esprime vicinanza al movimento e perlomeno comprensione e definisce quello dei forconi un malcontento legittimo. L'ex presidente dei senatori PDL, Maurizio Gasparri, oggi Forza Italia, è indagato per peculato dalla procura di Roma. Secondo i PM, nel 2012, in qualità del presidente del gruppo al Senato, avrebbe usato 600 mila euro a scopo personale per una polizza sulla vita, restituendoli poi su richiesta della direzione amministrativa. Non mi sono appropriato di nulla, ho chiarito tutto agli organi competenti, il commento di Gasparri. Nuovo caso a Lampedusa dopo la diffusione di un video shock dal centro di accoglienza trasmesso dal Tg2. Le immagini mostrano migranti nudi, in fila e al gelo per un trattamento antiscabbia. Immediate le reazioni del mondo politico, immagini che ricordano i lager, protesta il sindaco dell'isola. Scioccati, dice il premier Letta, mentre il ministro Alfano promette accerteremo le responsabilità e chi ha sbagliato pagherà. Via libera del Consiglio dei ministri al decreto sulle legge sulle carceri, tra le misure per risolvere il sovraffollinamento, la scarcerazione di 3 mila detenuti entro maggio e l'utilizzo del braccialetto elettronico, ma solo per i domiciliari. Nuove norme per abbattere i tempi lunghi dei processi penali e soprattutto civili. Non sono previsti sconti di pena né indulti, ha precisato il ministro Cancellieri, istituita la figura del garante nazionale dei detenuti. Nel nuovo filone dell'inchiesta della Procura di Cremona sul calcio scommesse ci sono 30 partite sospette in Serie A. Oggi è scattato l'arresto per 4 persone, ma tra gli indagati spiccano i nomi dell'ex milanista e campione del mondo Gattuso dell'ex raziale e milanista e interista Brocchi. E un piano internazionale prevedeva di truccare le partite dei prossimi mondiali. Dopo i nuovi insulti razzisti punite le curve di Inter e Roma, che domenica rimarranno chiuse e non solo per questa giornata, anche quella successiva. Buonasera, quindi siamo forse alle settimane decisive per la legge elettorale e per capire anche la sorte, la durata della legislatura, nonostante le parole perentorie di ieri del Capo dell'Stato. Perché oggi Renzi torna sull'argomento e dice facciamo le riforme e soprattutto quella della legge elettorale con chi ci sta in Parlamento, senza che il perimetro sia per forza quello della maggioranza. Bisogna che gli altri partiti e le altre forze della coalizione prendano atto, e anche quelle fuori dalla coalizione, perché la legge elettorale si può fare non necessariamente con i partiti della coalizione. Meglio farla con il più ampio e vasto schieramento possibile, perché sono le regole del gioco, meglio farle tutte insieme. Poi si gioca e uno cerca di sconfiggere gli altri, ma sulle regole bisognerebbe andare d'accordo. Basta scherzi, aggiunge Renzi, che fissa gennaio come termine ultimo per il primo sì della nuova legge elettorale. Votando alle primarie, l'Italia ha chiesto di cambiare, dice il neosegretario democratico, rispondendo sul web alle domande via Twitter. A chi gli chiede se punta ad elezioni anticipate, si definisce un mediano pronto a giocare a centrocampo negli interessi del Paese. No alla patrimoniale, prima a tagliare i costi della politica, ripete, prima di lanciare la sfida sulle riforme. Sono bello tosto, pronto a dare la scossa, nelle prossime settimane attacca. Una sfida che dice non riguarda il governo. Se fa le riforme, siamo pronti a sostenerlo fino a fine mandato. L'impegno condizionato di Renzi, che va oltre anche le aspettative dello stesso Letta, convinto di poter arrivare al 2015. Il Parlamento ha tutti i titoli per fare le riforme. Chi dice il contrario punta all'immobilismo, replica Renzi, a chi sostiene che l'attuale Parlamento è stato delegittimato dalla sentenza della Corte Costituzionale sul Porcellum. Nel Milino, evidentemente, Forza Italia e ancora una volta i 5 Stelle. Sono inesperti di democrazia. Li comanda uno solo la frecciata di Renzi, che torna a sfidare Grillo. E i suoi, anche sui tagli. Dica sì all'abolizione del Senato. Nessuno scambio. Chiedo di firmare un provvedimento che consente di risparmiare un miliardo. È una occasione gigantesca la carta di Renzi. Renzi vuole contrattare con soldi che non sono suoi, replica. L'ex capogruppo 5 Stelle al Senato, Vito Crimi. I grillini sono da questa mattina davanti al Ministero dell'Economia per il secondo Restitution Day. I parlamentari del Movimento si sono presentati con un assegno di oltre 2 milioni e mezzo, seconda tranche, della restituzione di rimborsi e di arie. Davanti al Ministero passeranno la notte, chiedono ai ministri Saccomanni e Zanonato un decreto che istituisca un fondo di garanzia per il microcredito alle piccole e medie imprese, dove versare i soldi da loro risparmiati. Sul governo e sulla sua maggioranza da ieri si erge ancora di più evidente lo scudo protettivo del Quirinale con le parole pronunciate ieri da Napolitano e con quelle pronunciate ancora oggi. Si vogliono le riforme, ci vuole continuità di governo, l'Europa ce lo richiede, niente elezioni anticipate nell'anno prossimo. Le polemiche sono iniziate subito e proseguono praticamente senza soluzioni di continuità. Particolarmente a sparare sul Quirinale è Forza Italia. Ieri con le alte cariche dello Stato, oggi con gli ambasciatori, Giorgio Napolitano insiste sul cuore del suo messaggio. Tra i doveri delle istituzioni c'è quello di garantire stabilità e governabilità. Bisogna porre fine alla fragilità endemica dell'Italia e dunque riforme e ancora riforme. Oltre al rischio di scosse sociali innescate dalla crisi c'è l'Europa che incalza il semestre di presidenza italiano. Uno scenario internazionale che richiede di andare avanti con il governo. Se continuiamo a lavorare bene, mangeremo il panettone anche l'anno prossimo, dice poco dopo Enrico Letta a Palazzo Chigi. Oggi il Presidente della Repubblica non evoca, come ha fatto ieri, le sue possibili dimissioni se il Parlamento continuasse, usando le sue parole, a pestare l'acqua nel mortaio sulla legge elettorale. Dimissioni da opporre anche al cieco precipitare verso elezioni anticipate. Ma il Capo dello Stato ricorda ancora che non è stato lui a volere un secondo mandato, che gli è stato richiesto proprio in nome delle riforme da fare. Era solo otto mesi fa, ma sembra un'altra epoca. Oggi è durissima la reazione del centrodestra di Berlusconi, tra i primi a volere lo straordinario bis sul colle. Quasi una richiesta di impeachment in asse con Grillo alla stroncatura sul mattinale di Brunetta. Altro che auguri di Natale, si legge, è come se ieri Napolitano avesse afferrato per le spalle gli ospiti istituzionali di Forza Italia per scrollarli davanti al mondo, chiedendo loro di adeguarsi a quello che ritiene buono e giusto per il Paese, minacciando di andarsene se non sarà ascoltato. Napolitano ha esondato attacca Forza Italia, che insiste per elezioni il prima possibile. Altro che alchimie di mini intese, prosegue l'affondo con spruzzate di paternalismo ai confini di un autoritarismo incompatibile con la funzione assegnata a Napolitano dalla Costituzione. Parole che sembrano dunque il preludio all'accusa di alto tradimento. Sandro Bondi aggiunge un altro capo d'accusa, oltre a un interventismo politico che contrasta con la Costituzione. Non si può escludere che Napolitano abbia incoraggiato l'ascissione di Alfano e dei ministri del PDL. Accuse seccamente rispedite al mittente dal nuovo centrodestra. L'aggressione al capo dello Stato costituisce uno sterile tentativo di intimidazione da parte di chi, non più tardi di sei mesi fa, ne tesseva le lodi. È chiaro, visto che tutela il governo e la sua durata, la sua lunghezza in vita, è ovvio che Napolitano è oggetto delle critiche dure delle opposizioni e delle difese ovviamente di chi sta nella maggioranza. Ma al di là di questo è il ruolo di Napolitano in discussione, il suo interventismo. Fa bene o fa male? Gliel'hanno promesso le forze politiche chiedendogli di restare al Quirinale altri sette anni o si è preso più spazio l'inquilino, ormai da otto anni, del palazzo più importante? Le opinioni di due giornalisti che la pensano diversamente tra loro, Mario Secchi e Marco Travaglio. Il Presidente della Repubblica non può minacciare di andarsene prima dei sette anni del suo mandato, perché la Costituzione dice soltanto che il Presidente è eletto per sette anni. Il Presidente della Repubblica non può condizionare la sua permanenza per sette anni al fatto che il Parlamento faccia quello che dice lui, perché non esiste un Presidente a condizione e soprattutto perché il Parlamento non dipende dal Presidente della Repubblica, è libero e sovrano come potere legislativo. Il Presidente della Repubblica non può dire che nel 2014 non si andrà alle elezioni, perché se si dovesse sfasciare la maggioranza e se ne dovesse trovare un'altra alternativa, è ovviamente suo preciso dovere sciogliere le camere e mandarci a votare, anche se fossimo nel semestre di Presidenza europea di turno assegnata all'Italia, anche perché è già accaduto più volte che durante quel semestre il Paese che aveva in turno, aveva in sorte la Presidenza dell'Unione europea andasse tranquillamente a votare senza alcuno sconquasso. Se il Presidente continua a fare ciò che non può fare per la nostra Costituzione e cioè ad assumersi un ruolo politico proprio per realizzare un proprio programma politico, non è più un arbitro, diventa una parte o un supporter di una parte e cioè si assume quel ruolo politico, lo cito proprio testualmente, che lui nel 1991 rimproverò a Cossiga chiedendone le dimissioni. Di tutto abbiamo bisogno, fuorché di un Napolitano che chiede le dimissioni di Napolitano. Criticare Giorgio Napolitano per le sue esternazioni non conduce da nessuna parte per almeno due motivi. Il primo è che il Presidente della Repubblica è almeno dai tempi di Pertini che svolge un ruolo di esternazione molto ampio su tutto il dibattito politico. Il secondo è che mancando appunto la politica dei partiti il Presidente riempie un vuoto. Potremmo aggiungerne un terzo, che se i partiti non risolvono i problemi delle istituzioni italiane è chiaro che il Presidente continuerà a svolgere questo ruolo di supplenza. Infine, una considerazione. Per quanto durerà ancora quest'impasso nel governo? Per quanto il ruolo di supplenza di Napolitano potrà durare? E' questo il vero interrogativo che ci dobbiamo porre. E queste erano le opinioni di Travaglio e di Secchi. Ma domani dal Palazzo del Quirinale e dagli altri palazzi del potere si potranno distintamente sentire le grida di chi arriva nella Capitale a manifestare sulla scia di quel movimento che è iniziato il 9 di dicembre e che viene chiamato per chiarezza nei confronti dei lettori e telespettatori dagli organi di informazione quello dei Forconi. Poi ci si capisce. Ci sono varie anime di quel movimento. L'anima più intransigente è proprio quella che domani ha organizzato il raduno romano. Stanno arrivando da tutta Italia, raggiungono la Capitale in autobus e in treno e il punto di raccolta in Piazza dei Partigiani, dove i Forconi hanno allestito un presidio. Tra oggi e domani le forze dell'ordine prevedono l'arrivo di almeno 15.000 persone ma potrebbero essere anche di più. Se non ci sarà una marcia su Roma, quella di domani sarà comunque una giornata ad alto rischio. L'appuntamento è nel primo pomeriggio in Piazza del Popolo per quella che Danilo Calvani, leader dell'ala Pontina dei Forconi, la più intransigente, definisce una manifestazione statica. Non dovrebbero esserci cortei per le strade del centro e questo è quello che interessa le forze di polizia che hanno già mobilitato 2.000 agenti. Circoscrivere la manifestazione per il rischio di infiltrazioni da parte di gruppi di estrema destra e di frange violente. Casa Pound ha confermato che sarà presente. Un'adesione quindi eterogenea e per questo imprevedibile. Non solo, domani è anche la giornata dei migranti e ci sarà un corteo del movimento per la casa da Piazza Esquilino a Piazza Indipendenza. Il rischio potrebbe essere quello di un contatto tra le due manifestazioni e di una situazione a quel punto ingovernabile. Per questo, per evitare strumentalizzazioni, l'anima più morbida dei forconi si è dissociata. Non parteciperemo perché la piazza è troppo politicizzata, ha confermato oggi Mariano Ferro, il siciliano fondatore del movimento il quale, assieme al Veneto, Lucio Chiavegato ha intenzione di andare domenica prossima a San Pietro per partecipare alla messa con la speranza di essere ascoltati da Papa Francesco. Il ministro dello sviluppo zanonato ha parlato oggi di un malessere comprensibile ma ha aggiunto non si capisce quale sia la loro proposta. Un malcontento considerato legittimo anche dal presidente di Confindustria, Squinzi. Purtroppo è anche ampiamente giustificato perché diciamo che negli ultimi tempi non ci siamo molto concentrati a fare le cose necessarie per ritrovare la crescita. Intanto potrebbe aprirsi un canale di dialogo con il governo. Ci sarebbe stato un primo tentativo di contatto da parte delle segreterie e dell'esecutivo per un eventuale incontro con una delegazione dell'ala più moderata dei Forconi ma per ora senza successo. Il nome è noto in politica e anche nei talk show televisivi. Maurizio Gasparri da 20 anni è sulla scena prima AN, poi PDL, oggi Forza Italia prima ancora è Movimento Sociale. Oggi entra invece nelle cronache giudiziarie. L'assicurazione sulla vita, un chiodo fisso per il capo famiglia previdente ma la sua polizza BNL Private Selection beneficiari e moglie e figlia Maurizio Gasparri nel 2012 l'avrebbe accesa con i fondi del gruppo PDL da lui presieduto a Palazzo Madama un contratto da 600.000 euro. Per questo, prima è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Roma con l'accusa di peculato e poi dopo un interrogatorio tenuto segreto un mese fa in una caserma della finanza ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini probabile anticamera del processo Alle prime avvisaglie di un'inchiesta nata quasi un anno fa per la segnalazione di operazioni sospette da parte di Banca Italia e dopo specifiche richieste della direzione amministrativa del gruppo Gasparri lo scorso primo febbraio ha proceduto al riscatto anticipato della polizza e alla restituzione della somma con due bonifici di 300.000 euro ciascuno Oggi l'ex presidente dei senatori del PDL 150 nella precedente legislatura nega l'appropriazione Avevamo fatto un accantonamento per fronteggiare i contenziosi e la BNL, che da sempre ha i suoi uffici in Senato mi ha proposto di fare quell'investimento Di certo, prima che fosse imposto ai gruppi parlamentari l'obbligo di documentare le uscite e di farsi certificare i bilanci di trasparenza ce n'era zero La norma regolamentare in vigore fino a dicembre 2012 era chiara nell'affermare che il denaro erogato dal Senato ai gruppi parlamentari dovesse servire per l'attività dei gruppi stessi ma non prevedeva specifiche destinazioni dei fondi né imponeva il rendiconto delle spese Ecco perché, di fronte all'ingente movimentazione di soldi del gruppo PDL 2.800.000 euro cash usciti dalla filiale BNL di Palazzo Madama tra il 2010 e il 2012 gli investigatori si sono dovuti arrendere Daniela Lucentini coordinatrice della struttura amministrativa di sostegno del gruppo ha detto apertamente ai PM e alla finanza che, non essendovi all'epoca obbligo di rendicontazione non ha conservato i documenti giustificativi delle spese del 2010, 2011 e 2012 E siamo a quella che è una vicenda scandalosa la conosciamo grazie a un video diffuso dal Tg2 e l'indignazione è stata automatica perché non si può guardare quelle immagini e dire non c'è niente di anormale Il nuovo caso Lampedusa esplode dopo un servizio del Tg2 che in esclusiva ha mostrato le immagini riprese all'interno del centro d'accoglienza dell'isola si vedono immigrati che aspettano nudi in fila per essere sottoposti ad un trattamento antiscabbia una procedura ripetuta ogni 3-4 giorni ai migranti appena sbarcati in Sicilia dopo un viaggio infernale immagini shock riprese con un telefonino trattati come animali denunciano la prima ad attaccare il sindaco di Lampedusa Giussini Colini immagini che ricordano i lager Laura Boldrini, presidente della Camera accusa uomini e donne fatti denudare in pieno inverno all'aperto un trattamento indegno di un paese civile quelle immagini non possono lasciarci indifferenti il caso così esplode ed arriva al Viminale interviene il ministro dell'interno Angelino Alfano sui fatti avvenuti a Lampedusa accerteremo le responsabilità e chi ha sbagliato pagherà dice e promette una relazione dettagliata entro 24 ore interviene anche il premier Enrico Letta le immagini ci hanno scioccato il governo farà un'indagine approfondita e sanzionerà le eventuali responsabilità sono cose inaccettabili in uno stato democratico aggiunge il ministro dell'integrazione Cecil Chiang bisogna andare fino in fondo ma il nuovo caso riaccende la polemica sui centri di prima accoglienza e sulle leggi sull'immigrazione la qualità dell'accoglienza è uno dei primi parametri attraverso i quali si giudica la civiltà di un paese dice Gianni Cuperlo neopresidente PD la barbara legislazione in materia di immigrazione va cambiata al più presto e se attacca è il momento di chiudere i centri di accoglienza e mettere in campo una vera politica degna di un paese civile degno di un paese civile si dice sempre che deve essere anche il trattamento carcerario l'Italia è già stata sanzionata più volte dalle istituzioni europee al riguardo e oggi c'è un primo tentativo di correre ai ripari un primo pacchetto carceri varato nel tardo pomeriggio dal governo di qui a maggio 3.000 detenuti in meno per arrivare in due anni così si prevede a 7.000 non sarà la panacea non sono i circa 20.000 in più indicati dai dati ufficiali ma almeno è una risposta sia pure parziale prima ancora che ai ripetuti i richiami del presidente napolitano e alle richieste del ministro cancellieri alle varie condanne piovute dalla Corte Europea dei Diritti Umani che al nostro paese aveva posto il limite del maggio 2014 per mettere mano al sovraffollamento del nostro sistema carcerario per uscire come ha detto Letta annunciando il provvedimento dalla lista dei cattivi da una parte si cerca di dare risposte alla terribile situazione di sovraffollamento delle carceri senza che questa risposta abbia in nessun modo elementi di pericolosità per i cittadini e in secondo luogo si svolge un intervento che serve a accelerare la giustizia civile il processo civile il decreto sulle carceri approvato infine dal Consiglio dei Ministri era stato già ribattezzato pacchetto un pacchetto che istituisce la figura del garante nazionale dei detenuti che punta a considerare con più attenzione la gravità dei reati commessi dagli spacciatori oggi rappresentano un terzo della popolazione carceraria detto la cancellieri e che affida buona parte della sua efficacia a due misure la prima è l'estensione degli arresti domiciliari dai 3 a 4 anni di condanna e la possibilità di scontarli se vi sarà l'assenso del giudice di sorveglianza anche per chi già ai domiciliari subisca una seconda condanna l'altra è quella temporanea valida cioè solo per due anni dello sconto di pena che sarà di 75 giorni per ogni semestre passato in cella contro i 45 di prima molto discussa già ai tempi del ministro Severino che aveva sollevato alcune perplessità era la pratica tutta ancora da esperire sui numeri significativi del braccialetto elettronico che col decreto diventa obbligatorio ma sul quale la stessa cancellieri ha voluto come restringere il campo di azione nelle modalità di controllo c'è una facilitazione dell'utilizzo del braccialetto elettronico che però verrà utilizzato soltanto nei casi di ritenzione di custodia domiciliare la quale cancellieri ha poi voluto anche spegnere preventivamente ogni possibile polemica non si parli né di indulti né di indultini ha detto non c'è nulla di automatico con questo decreto e c'è da parlare di chi è in corso nei quello che una volta si chiamavano i fulmini della giustizia nel mondo dello sport perché oggi c'è stata un'altra tranche di arresti e avvisi di garanzia e di perquisizioni per ordine della procura di Cremona che indaga sulle vicende del calcio scommesse e la novità è che è spuntato fuori un nome notissimo di un campione del mondo Rino Gattuso e quello di un altro giocatore di prima serie come Brocchi che ha giocato in molte squadre importanti proprio nel giorno in cui la giustizia sportiva invece sanziona con durezza le curve di due delle squadre più importanti l'Inter e la Roma una giornata alla sbarra per il calcio italiano cominciata all'alba quando gli agenti della squadra mobile di Cremona e dello scoffano scattare le manette su ordine del GIP Guido Salvini per quattro persone e perquisizioni a carico di altri indagati tra questi gli ex calciatori Gennaro Gattuso e Cristian Brocchi per loro l'accusa e associazione a delinquere finalizzata alla truffa e alla frode sportiva il nuovo filone di Last Bet l'inchiesta di Cremona che dalla fine del 2010 conta 120 indagati e 54 arrestati riguarda adesso 90 gare una trentina di A comprese quelle di Juventus Inter e Milan finora escluse tra le quattro partite dello scorso torneo anche Palermo Inter finita 1-0 perché nonostante indagini arresti e confessioni c'è chi non si è mai fermato è il caso di Salvatore Spadaro Francesco Bazzani Cosimo Ricci e Fabio Quadri i quattro finiti in carcere Spadaro e Bazzani per l'accusa rappresentano l'anello di collegamento tra le società di calcio e i gruppi di scommettitori prendevano i risultati delle partite da giocatori e dirigenti e li rivendevano per le scommesse clandestine Francesco Bazzani aveva conoscenze con dirigenti di serie A e rapporti stretti con calciatori disponibili era lui a concludere accordi che per ogni singola partita potevano generare introiti fino a 7-800 mila euro nel 2011 a contatti via SMS con Gattuso l'ex campione del mondo nel 2006 urla adesso la sua rabbia e dice se venisse dimostrato sono disposto ad andare in piazza e ad ammazzarmi in tempi recenti dimostra di avere rapporti privilegiati con la Lazio 110 contatti registrati tra lui e Brocchi su una sim intestata la società Baci e Abracci dell'ex calciatore della Lazio intanto l'altra piaga quella del razzismo porta alla decisione del giudice sportivo di chiudere per cori le curve di Roma ed Inter niente tifosi per due turni a partire da domenica quando a Milano si giocherà il derby e andiamo a vedere come a livello europeo sono successe due cose importanti giuro che dedicherò tutti i miei sforzi per il bene della popolazione tedesca per migliorare i loro benefici e proteggerli dai problemi ormai la sa memoria la formula di giuramento fra Wang è la terza volta che la ripete davanti al Bundestag che oggi l'ha di nuovo eletta cancelliera con una maggioranza assoluta e schiacciante 462 voti su 631 più che sufficienti insomma a far lavorare la nuova grosse coalizione senza alcun problema anche se questa volta i conti non tornano completamente perché se è vero che con questo consenso la Merkel può ancora considerarsi la regina d'Europa qualcosa comincia a scricchiolare durante la votazione per esempio ci sono stati 23 franchi tiratori non previsti nella maggioranza formata da CDU e SPD non solo per riuscire a chiudere l'accordo ha impiegato 84 giorni il periodo più lungo dal dopoguerra per formare un esecutivo e ha dovuto cedere su diversi punti innanzitutto sul salario minimo garantito orario di 8 euro e mezzo cavallo di battaglia elettorale dei socialdemocratici ma ormai il Merkel-Drai è partito e già giovedì sarà impegnato con la prima grana al vertice di Bruxelles si deve trovare l'accordo sull'unione bancaria fortemente caldeggiato da Draghi ma non sarà così facile anche perché ha le finanze per controllare le spese è stato confermato il principe del rigore Schäuble e con lui l'Europa dovrà avere a che fare nei prossimi 4 anni un'Europa peraltro attraversata in questi mesi da diverse pulsioni dagli equilibri tutti da definire nelle stesse ore in cui la Merkel giurava infatti Mosca metteva a segno un colpo strategico nella battaglia per il controllo della regione orientale del continente il presidente russo Putin dopo un faccia a faccia con Yanukovic ha annunciato infatti che concederà un sostanzioso sconto sul prezzo del gas all'Ucraina non solo investirà anche 15 miliardi di dollari dal proprio fondo di benessere nazionale in titoli di stato di Kiev quanto basta per veitare al paese una banca rotta annunciata nel 2014 del rinvio dell'accordo tra Ucaina e Unione Europea che ha scatenato le proteste di piazza a Kiev ufficialmente non si è parlato ha precisato Putin né dell'eventuale adesione di Kiev all'unione doganale tra Russia Bielorussia e Kazakistan ma a volte come è noto più delle parole potè il digiuno allora tra poco dopo di noi a 8 e mezzo Lili Gruber ha come ospite Filippo Taddei l'economista chiamiamolo così civatiano che è entrato nella segreteria del PD targato Renzi dopo a linea gialla tra le tante storie che vi propone Salvo Sottile ce n'è una di bruciante attualità anche politica perché per la prima volta parla il dottor Di Matteo il pubblico ministero del super processo della trattativa Stato-mafia oggetto delle minacce di morte di Totò Riina dal carcere di Opera noi ci fermiamo E infine le borse Milano ha chiuso male tanto era andata bene ieri tanto è andata male oggi ha perso l'1,63% spread immutato a 221 in questo momento a Wall Street si balla sulla parità perfetta parità 0-0 per il Dow Jones più 0-0 per il Nasdaq è tutto 8 e mezzo e linea gialla buonasera domani